Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ho appena ricevuto questo pacchettino qui e ci tenevo a farci un video per aprirlo il sito si chiama Moonmagic e vende tutti i gioielli in argento più varie pietre io ho provato a prendere un anellino che dovrebbe avere tre pietre in opale sintetico adesso andiamo a spacchettarlo insieme e vediamo un po' come sarà il sito è americano quindi i prezzi sono tutti in dollari e le spese di spedizione dovrebbero essere sui 14 dollari adesso poi quando apriamo comunque ci sarà il mio ordine quindi vi so dire meglio i prezzi ci tengo a precisare che non è una collaborazione quindi ho voluto provare questo sito io di mia spontanea volontà perché volevo un anellino carino e girando per internet ho trovato questo sito qui allora è impacchettato molto bene diciamo che c'è della carta che ferma tutto poi immagino che qui dentro ci sia il mio anellino e qua c'è la bolla e qua c'è il mio ordine e basta allora vediamo un po' si praticamente esatto ho preso questo opal ring non ci sono i prezzi all'interno di questa bustina si nasconde il mio anellino quindi andiamo un attimo ad aprirla c'è il loro biglietto da visita e infine il mio anellino wow allora è piccolissimo me lo aspettavo un pelo più grande ma è veramente minuscolo è molto fine e come misura si è un po' più grande di una 40 48 dovrebbe essere una 49 e mezzo adesso mi vado a togliere gli anelli così lo vediamo da solo mi va sia qui molto fine e carino sia qui qui tende un po' a girare perché è inverno quindi ho le dita molto sottili quindi penso che lo lascerò qua molto carino l'ho ordinato il 7 gennaio ed è arrivato oggi che è il 21 quindi ci ha messo un pochino il prezzo è di 35 dollari le spedizioni costano 8,90 ho appena guardato sul mio ordine che ho fatto e non ho pagato la dogana magia non ho pagato la dogana fortunatamente e niente lo trovo assolutamente stupendo è molto fine come anello e adesso devo un po' capire come indossarlo perché se vedete io ne porto sempre assieme di più praticamente sono sempre a coppie più o meno quindi adesso provo un po' a fare delle prove con anche questi che avevo già addosso e vediamo come riesco a combinarli e nulla anche questo video termina qui fatemi sapere se vi è piaciuto e se anche a voi piacciono un sacco gli anelli io vi mando un bacio al prossimo video ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti